non è vero no ma da italiana tu sicuro non credo beh io sicuro oddio cosa ne dici le stiamo facendo il camera insieme pari tutte e due rispetto all'allenamento no io perché Francesca è troppo perfetta ok non è compagno, è compagno del mio fidanzato io non ho mai visto io non ho mai visto Franci ballare nessuno dei due secondo me tu perché io sono sempre a casa nessuno ci andiamo tutte bene vabbè ma non vale io mi sono prestissima io vado a tutto